Abbiamo sempre protestato contro quella classe politica e contro la poca qualità della classe politica che oggi sta riformando la Costituzione. Se dovesse vincere il sì, come oggi non ci sono limiti ai cambi di casacca dei politici, non ci saranno il giorno dopo l'approvazione di questa riforma costituzionale. Come non ci sarà il giorno dopo una serie a leggi sulle lobby in questo Paese che regoli il rapporto tra lobby e partiti. Cioè vi stiamo dicendo che questa riforma che è spacciata all'estero come in Italia, come il provvedimento che debba cambiare, che deve cambiare la qualità della classe politica, il numero di poltrone, che dovrebbe ridurre i costi, in realtà è proprio il paravento dietro il quale la classe politica italiana, intesa come i vecchi partiti, stanno nascondendo tutti i loro mali endemici e li stanno proteggendo. Ma tenete presente una cosa, che questa riforma sarà irreversibile. Qualcuno dice ma per migliorare la qualità della politica italiana c'è bisogno di fare le leggi più velocemente. È nostro dovere anche smantellare questi slogan ed è per questo che i quattro interventi di prima vi parlavano del finto taglio dei fondi. Guardate che un caffè ad italiano all'anno e non è un risparmio, perché questa riforma non fa risparmiare soldi. L'abbiamo chiesto alla ragioneria dello Stato, l'abbiamo chiesto e ci ha risposto. Non si risparmia un miliardo di euro all'anno come era stato detto, non si risparmiano 500 milioni di euro all'anno come era stato detto, si risparmiano 50 milioni di euro. Ma io faccio parte di una Camera dei Deputati che potrebbe votare il risparmio di oltre 50 milioni di euro nell'ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, semplicemente riducendo i rimborsi di spese ai parlamentari, riducendo il parco delle auto blu. Se la vogliamo spostare sui soldi, non sono i soldi il tema, perché in molto meno tempo, non con il doppio procedimento aggravato di una riforma costituzionale, si potrebbero risparmiare molti più soldi. Allora, questa è una truffa vera e propria. Ci stanno fregando. Quello che vogliamo dire ai cittadini italiani è ci stanno fregando. Votiamo no per dire sì ad un'altra idea di Paese. ...eccetera eccetera. Io vi dico che tutti questi milioni di cittadini onesti andranno in massa e con la totale limpidezza e tranquillità a votare no a questa nuova Costituzione. Votare no è giusto, perché viene dimezzata la sovranità popolare, dicono palle. Qui noi votiamo no per difendere la sovranità popolare dei cittadini, perché gli dimezzano per che cosa? Per 90 centesimi. Per un caffè, come diceva il collega. Un caffè ad italiano all'anno. Mille milioni di euro, un miliardo di euro di risparmi dei costi della politica con la riforma costituzionale. Il sottoscritto insieme ai colleghi ha fatto una cosa che è nelle proprie prerogative. Ha chiesto agli uffici competenti, ragioneria dello Stato, è un ente governativo preposto a fare i conti in tasca. Ebbene ci ha risposto 57 milioni. I veri risparmi per un dimezzamento della democrazia sono una tazza di caffè. Io penso che offenda gli italiani, oltre che a voler rifregare. Perché penso che anche parlare di taglio dei costi, quando si parla di democrazia, gli italiani siano dei caproni, dei pecoroni, mettetela come volete voi. E anche per questo correranno probabilmente in massa a votare no. Che questo è solo l'ultimo tassello di un piano. E del piano evidente di accentramento del potere in una stretta oligarchia. Noi diciamo, se passa al no, ci sarà la possibilità finalmente di intervenire sulle riforme necessarie ai cittadini, che sono quelle che chiedono i cittadini. Queste riforme non le ha chiesto nessuno, le ha chieste la casta politica per cementificare privilegi e poltrone. Grazie. Un caffè ad italiano all'anno. Per un caffè, come diceva il collega. Per un caffè, come diceva il collega.